L'estasi è uno stato, dobbiamo dire, prima di tutto poco studiato, però è uno stato che potremmo comparare alla salita della Kundalini degli indiani, all'ingresso in altre dimensioni. La persona si sente come chi accede alle sfere superiore, potremmo dire. Possiamo dire che l'estasi potrebbe essere la quintessenza, perché quasi gli altri stati più notici sono attorno. L'estasi è la salita nella quintessenza, la salita all'interno di sé, se volessimo dargli una definizione. L'estasi è la salita, la salita all'interno di sé, se volessimo dargli un po' di più. L'estasi è non verbale, l'estasi è di là. L'estasi è la salita, la salita all'interno di sé, se volessimo dargli un po' di più.